lunedì 11 aprile buongiorno a tutti e ben trovati in diretta con ogni giorno puntuali alle 7 per il nostro appuntamento con la rassegna stampa siamo pronti per dare un'occhiata assieme a voi ai quotidiani di oggi ai titoli principali dalla cronaca allo sport oggi è lunedì quindi una rassegna sportiva un po più ampia rispetto agli altri giorni della settimana iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali dove in primo piano oltre agli sviluppi della guerra in Ucraina troviamo anche i risultati delle elezioni presidenziali in Francia un primo turno che ha visto la vittoria di Macron a questo primo turno ci sarà il ballottaggio ovviamente allora andiamo a vedere il Corriere della Sera come titola in apertura ecco qua centro pagina Macron avanti le penne più lontana al presidente andrà il sostegno di Verdi e repubblicani ma i voti antisistema arrivano al 50 per cento le proiezioni il capo dello stato al 28 per cento la rivale le penne al 23,2 melanchon 21,7 per cento mai consensi a marine queste le parole di melanchoni cui voti potrebbero essere importanti appunto nel ballottaggio e poi dicevamo la guerra in Ucraina allora andiamo nel taglio alto ecco qua una foto orrori e vittime Putin è pronto all'assalto finale per il Donbass ed è scontro sul gas tra Mosca e Roma dal Corriere andiamo su repubblica adesso la Francia tra Macron e le penne alla sfida del ballottaggio il presidente uscente si presenta in testa con il 28,2 per cento nulla è scontato ha detto la leader le penne dice la leader del rassemblement nazionale le penne lo tallona al 23 per cento decisivi gli elettori di melanchon terzo con il 21 per cento che chiede un voto contro marine flop di Zemmour ma l'onda populista sfiora il 50 per cento l'unione europea teme una frexit se vince la protesta e Mosca punta sugli anti sistema questa è l'apertura di repubblica andiamo adesso a centro pagina e vediamo la foto fosse comuni il titolo ecco qua a Buzzova vicino Buccia si scava alla ricerca di civili uccisi dalle truppe di occupazione in ritirata Sullivan il consigliere di Biden punta il dito contro Putin e dice responsabile dei crimini di guerra i blindati del cremlino verso il Donbass e inizia l'esodo andiamo anche sulla stampa vediamo anche qui le due notizie che abbiamo visto anche su Corriere Repubblica in primo piano per quanto riguarda le elezioni in Francia sfida per l'Europa titola la stampa e poi invece Donbass guerra eh totale a vorzele cidi e eh torture dalla stampa andiamo adesso sul fatto quotidiano Nato minaccia Zelensky tratta la strana guerra scrive il fatto Putin paga ancora l'Ucraina stasera a Report eh l'amministratore delegato della rete del gas a eh Chiev e che eh appunto eh dice Putin paga ancora eh l'Ucraina ancora eh andiamo a vedere anche il fatto economico del eh lunedì che eh oggi titola come Germania Italia si sono impiccate ai eh russi più affinabili eh dell'Argeria tutti gli accordi sul gas per cui eh Mosca eh è necessaria eh all'Italia ancora sempre i quotidiani nazionali con il giornale che ehm dà una chiave di lettura al risultato delle eh elezioni in Francia di questo primo turno delle presidenziali e dice la guerra premia Macron l'inquilino dell'Eliseo avanti al primo turno Le Pen cresce e va al ballottaggio sinistra di Mélenchon al venti per cento spariscono i eh gollisti e poi vediamo anche qui parte l'operazione Donbass poi l'incontro Putin eh Zelensky eh dice il eh giornale andiamo anche sulla prima di Libero in questo caso invece vediamo in apertura un'altra notizia la politica eh interna con ehm terremoto in vista questo nell'occhiello se tassa la casa Draghi va a casa domani Lega e Forza eh Italia vedranno il premier e gli chiederanno di eh garantire che non ci saranno aumenti delle imposte o eh sarà eh crisi e poi invece per il voto in Francia al ballottaggio in Francia la rivincita della Le Pen che sfida ancora Macron così come è venuto nell'ultima tornata elettorale il presidente uscente in testa con il ventotto per cento Marina al ventiquattro terzo posto per Mélenchon e Zemmour fuori dal podio sulla prima del giornale anche le parole del papa ieri al all'angelus della domenica delle palme il papa chiede la te tregua ma gli rispondono guerra i piani gli Stati Uniti e Russia Ucraina fronte del eh mondo dal giornale andiamo adesso sulla verità via tutte le multe anti covid e rimettete in libertà i prof titola la verità speranza continua la guerra anche se i dati dimostrano che restrizioni e green pass non fermano i contagi dice la verità lasciare i docenti non vaccinati fuori dalle classi è solo una punizione antidemocratica e eh anti economica ancora andiamo anche a centro pagina Macron inseguito dalla Le Pen e Zemmour di eh traverso questo per quanto riguarda il commento dei risultati delle elezioni in eh Francia ancora sempre sulla verità commissari straordinarie le quattrocento poltrone i professionisti dovrebbero gestire calamità aziende falite e comuni solo per un breve tempo invece affidare superpoteri è la normalità dice la verità procedure aperte da quattordici anni e in eredità disastri come nel caso eh Arcuri dalla verità al foglio vediamo il titolo di apertura di eh questo eh dell'edizione di oggi di questo lunedì un articolo firmato da Enrico Letta un nuovo ordine europeo il titolo una costruzione fragile da rafforzare la minaccia di Putin è il eh levitano il nostro eh biblico mitologico che obbliga l'Europa a fare il definitivo salto di qualità energia difesa politica estera e sociale perché dalla guerra e dalla pandemia devono devono nascere sette eh unioni un saggio del segretario del PD in esclusiva per il eh foglio e vediamo il titolo di apertura di oggi ancora cambiamo quotidiano e andiamo adesso sul gazzettino uno sguardo a nord est in apertura anche qui eh i temi nazionali e internazionali gas il piano taglia prezzi in attesa del tetto deciso dall'Unione Europea energia green a costi fissi per le eh aziende e draghi e punta sull'Algeria a centro pagina una foto che ci porta in porto a Chioggia nave russa bloccata deve caricare centoventi container con elementi eh d'arredo andiamo nel taglio alto e anche qui vediamo le eh elezioni presidenziali in Francia Macron oltre le attese ballottaggio con le penne la corsa per l'Eliseo il presidente uscente allunga sulla eh destra e anche il gazzettino dice quel voto francese così legato all'Ucraina di spalla il Vinitaly che eh è in corso in questi giorni alla fiera di Verona luci e ombra Vinitaly, Zaia, Aruba, i nostri eh vigneti. Ieri è stato inaugurato anche lo stand del Friuli Venezia Giulia, oggi anche noi saremo in diretta nel corso dei nostri ITG proprio dal Vinitaly di eh Verona. Chiudiamo il gazzettino e andiamo sul sole ventiquattro ore vediamo anche qui i titoli di apertura, guerra e rincari, titola il sole, alimentari, chimica, metalli, chi paga? Il super conto, energia, manifattura, i primi dieci settori più colpiti pesano per quattrocentosedici mila imprese e tre virgola sette milioni di eh addetti. E qui ci sono tutti eh i numeri dei eh rincari del peso dei eh rincari eh sulle eh aziende. Ancora vediamo eh a centropagina invece in arrivo congedi più facili per i eh genitori in attesa del Family Act il governo eh mette appunto nuove eh misure eh per eh madri e eh padri. Chiudiamo anche il eh sole ventiquattro ore andiamo adesso sulla gazzetta dello sport vediamo anche un quotidiano sportivo in questa prima parte di rassegna in apertura della gazzetta dello sport c'è il calcio ma anche il mondo dei motori. Allora cominciamo con eh la la Ferrari che eh vince il ehm eh gran premio in Australia principe volante e titola la gazzetta Leclerc e la Ferrari mondiale. In Australia bis del Monegasco, Verstappen si ritira. La mia rossa è una bestia detto Leclerc che sembra quella di eh Schummi e nella MotoGP continua la favola di Bastianini e della sua eh Ducati. A centro pagina Milan interrotto contro un bel toro altro zero a zero per il diavolo e Inzaghi eh gode. Mal di gol rossonero, Bremer ferma anche Giraud, il vantaggio sui nerazzurri con una gara in meno è di due punti. Pioli dice siamo ancora lì. Tra gli altri risultati della giornata di ieri crollo eh Napoli che eh perde in casa contro la Fiorentina per eh tre a due Maradona stregato e terzo eh Fiorentina bella e spietata e poi la Roma ribaltone polemiche Sabattini attacca Murigno con la Roma che rimonta la eh Salernitana eh solo nel eh finale è finita due eh a uno Lazio triplo immobile e re del gol Cattiverie contro eh di me ha detto eh immobile la Lazio affonda il eh Genua e poi tra le eh i risultati di ieri c'è anche la bella vittoria dell'Udinese contro il Venezia per due eh a uno poi andremo a vedere anche le immagini eh della eh gara vediamo proprio sulla eh gazzetta l'articolo Becao al novantaquattresimo l'Udinese va Venezia finali da incubo apre Deulofeu su rigore enri pareggia e illude ma per Zanetti arriva la quinta sconfitta nel eh recupero e allora chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport e chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai quotidiani nazionali andiamo adesso sulla stampa locale messaggero Veneto piccolo a gazzettino andiamo a vedere anche qui i titoli eh principali eh accordi aziendali per stabilizzare il lavoro da casa questa l'apertura del eh messaggero Veneto di Udine sono sempre di più i dipendenti che preferiscono lo smart working la CGL bancari dice il futuro sarà eh così va sciolto il nodo dei rimborsi e poi a centro pagina anche qui l'Udinese continua all'onda bianconera l'Udinese sbanca eh Venezia di spalla la eh cronaca con la ripresa del ehm delle notizie sull'incidente avvenuto sabato costato la vita a tre eh persone a Cavazzo Carni con l'incidente in Carni alla sorella di eh Massimiliano non ero tranquilla sono andata a cercarlo e poi ancora a Tolmezzo l'intera comunità è in lutto per Carlo e eh Maria le altre due vittime di questo eh incidente e ci sono le parole del parroco a messa pronti a sostenere le famiglie delle eh vittime nel taglio basso vediamo anche qui Vinitali il friuli del vino riparte dai giovani e dalla ribolla eh gialla andiamo a vedere la prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia c'è il futuro dell'ex del dell'ex cinema Odeon da museo a discoteca da teatro a sala concerti le idee per l'Odeon le convinzioni dei politici e le proposte degli artisti organizzatori di eventi e gestori di locali c'è chi abbraccia qualsiasi progetto legato all'arte e chi aprirebbe anche un eh ristorante rimaniamo sul messaggero Veneto ma cambiamo edizione andiamo nella destra tagliamento edizione di Pordenone vediamo anche qui i titoli eh principali apertura e eh foto notizia a centro pagina sono le stesse allora andiamo eh di spalla e vediamo le cronache locali seicento iscrizioni in meno nelle scuole per il calo eh demografico e poi ancora un ragazzo di Leopoli tesserato dalla Sacilese è un gran portiere. Ancora gli studenti scrivono un libro su Cosmo inventò eh la eh viticoltura. Andiamo anche qui sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone. De natalità quasi seicento alunni in meno al via nel prossimo anno scolastico. Vediamo l'approfondimento della notizia richiamata anche in prima pagina. In alcuni istituti si rischiano tagli di classi mentre il numero degli insegnanti non dovrebbe eh diminuire dice il eh messaggero Veneto. Andiamo sul gazzettino adesso. Vediamo il dorso del Friuli e vediamo anche qui i titoli di apertura. Manca materiale appalti disertati, imprese edili in difficoltà, prezzi folli e consegne a sei mesi. A Pordenone a vuoto anche due gare per le nuove scuole. L'allarme dell'assessore regionale Pizzimenti, una fase complicata anche per i lavori che sono eh già eh cominciati. E i costruttori eh dicono eh troppa incertezza difficile portare a termine le eh opere. E poi e vediamo ehm sempre per quanto riguarda i temi legati alla guerra in eh Ucraina. Profughi, i primi rientri in Ucraina, verifiche sui sussidi. Alcuni rifugiati provano a rientrare controlli delle prefetture sui pocket eh money. E ancora una storia eh una storia che vede unite nel lavoro una cameriera ucraina e una barista eh bielorussa. Nel eh taglio basso tre morti dello schianto frontale, Carnia sotto eh shock e poi il futuro eh dell'ex caserma Piave verso la demolizione e c'è chi chiede un picchietto eh d'onore. A centropagina lo sport Becao Gol a tempo scaduto e Spugna Venezia. Secondo successo consecutivo dei eh bianconeri. Andiamo anche di spalla altri duecento univi ulivi l'Ateneo produrrà il suo eh olio e poi è presidenza revisori dei conti si va al eh tar a eh palazzo da Ronco arriva un nuovo eh ricorso. E prima di addentrarci eh sulle pagine sportive dei eh quotidiani locali andiamo a vedere anche la prima pagina del piccolo di Trieste per chiudere il eh quadro nel taglio alto vediamo assalto al Donbass quindi i temi ehm della guerra in Ucraina in primo piano e poi invece in apertura la sfida green dei mezzi pubblici zero emissioni entro eh cinque eh anni l'impegno del consorzio regionale dei trasporti pubblicato il primo vademecum dell'offerta dei eh bus. A centropagina invece vediamo lo Stato non paga il mega yacht russo resta eh dov'è non ricorderete lo eh yacht del magnate eh russo eh che è stato sequestrato a eh Trieste. Chiudiamo il piccolo e iniziamo adesso la nostra rassegna stampa eh sportiva andiamo a vedere eh il gazzettino il fascicolo sportivo del gazzettino andiamo a vedere i titoli di eh apertura ecco qua un becao da tre punti eh titola il eh gazzettino il secondo gol consecutivo del difensore brasiliano risolve la sfida a Venezia dello Feu torna da protagonista Samaric assist assist delizioso Wallace fa valere il fisico e allora andiamo a vedere i gol e tutte le azioni andiamo a rivivere le emozioni della gara di ieri a Venezia nel servizio di Alessandro Surza. L'Udinese al penso cerca punti fondamentali per ottenere con largo anticipo il pass per la salvezza quella salvezza che invece continua di seguire con le unghie e con i denti il Venezia. La partita è abbastanza bloccata e tesa come normale che sia il primo squillo è di marca Friulana Molina viene lanciato da Wallace controlla bene teso dentro al cross per Beto che manda di poco a lato con il destro ma è comunque l'Udinese a creare i maggiori pericoli qua ci prova Deulo Feu direttamente da corner e poi sempre lo spagnolo poco dopo la mezz'ora si conquista il penalty sacrosanto netto corretto che guida assegna per il fallo di Cuisanza che va a toccare lo spagnolo con la gamba sinistra e penalty per l'Udinese dagli 11 metri si presenta proprio il numero 10 che spiazza Mempà e porta in vantaggio l'Udinese trovando anche la doppia cifra con il decimo gol del suo campionato torna col botto quindi Deulo Feu dopo la gara saldata con il Cagliari il primo tempo non regala altre emozioni la ripresa invece si e si apre con un retropassaggio killer di Aps che manda in porta Beto ma in palo disturba la pala si impenna il portoghese poi non riesce a controllare bene per calciare subito non era facile però grande chance qua per l'Udinese con il Venezia che rischia di farsi male da solo poi gli arancionero verdi rispondono e vanno per la prima volta davvero vicini al pareggio gran diagonale di Henry parata ancora più bella di Silvestri come è bella anche la parata di Mempà che si distende e toglie dall'angolino il siluro di Molina che sfiora il gol guardiamo la parata bella del portiere del Venezia che poi però pareggia sugli sviluppi di una rimessa laterale flipper in area la palla resta lì e il più l'esto di tutti è Thomas Henry che con il destro batte Silvestri e porta il punteggio sull'uno a uno a pochi minuti dalla fine il Venezia adesso prova anche a crederci ed è fondamentale Becao che in scivolata anticipa lo stesso attaccante francese salvando con una chiusura providenziale l'Udinese ma fa tutto Becao perché pochi istanti dopo sul perfetto corner di Samarzi c'è il numero 50 con la fascia al braccio a saltare più in alto di tutti. a battere ma in pa per dare la vittoria e tre punti fondamentali ad un Udinese che ottiene il secondo successo consecutivo e sale a quota 36 punti finisce così quindi con la vittoria fondamentale per la banda Cioffi che adesso affronta l'Empoli. Becao manda a picco Venezia titola ancora il gazzettino al Penso a vittoria nel recupero dell'Udinese al sesto risultato utile nelle ultime sette partite sblocca Deulofeu su rigore pari di Henry nel finale ma il brasiliano di testa aggrava la crisi dei lagunari. e leggiamo le prime righe dell'articolo come lo spezia anche l'Udinese fa piangere al 94esimo un Venezia che con la sesta sconfitta di fila imita Cagliari e Genoa senza riuscire ad invertire la rotta che porta dritti in serie. B. Ennesima recidiva beffa per gli arancioneroverdi freddati in extremis dall'incornata di Becao che vanifica tutta l'enorme fatica fatta per rispondere quasi al fotofinish con Henry al rigore di Deulofeu. Per i fiulani salvezza ormai in ghiaccio grazie all'ottima cura Cioffi per i lagunari paradossalmente la era e resta a tre soli punti ma non vincendo veramente mai assomiglia sempre più ad un miraggio o giù di lì. E poi vediamo ancora le parole di Cioffi questa squadra ha sempre tanta fame ha detto il mister al termine della gara Zanetti costretto a masticare Amaro ci crediamo e possiamo farcela ha detto l'allenatore del Venezia. Vediamo ancora per quanto riguarda i bianconeri il capitano Deulofeu divide i meriti con i compagni mi sento molto felice per l'udinese. Chiudiamo il gazzettino e andiamo sulle pagine del messaggero Veneto cambiamo quotidiano e vediamo anche qui l'apertura del fascicolo sportivo ecco qua la doppia pagina udinese all'ultimo respiro così espugna anche Venezia. Ecco qua il titolo di eh apertura e poi ci sono le parole di Marie vittoria meritata il nostro obiettivo adesso è pensare all'Empoli. Andiamo anche nella pagina successiva dove troviamo le pagelle. Becao prima evita il K.A.O. poi segna il gol partita Samarzic disegna il suo terzo assist su corner Pablo Marie torna in fonde sicurezza al reparto difensivo Deulofeu si procura il rigore e lo trasforma con freddezza. Andiamo a vedere i voti sei e mezzo per Silvestri sette per Becao sei e mezzo per Marie sei per Perez sei e mezzo Molina cinque e mezzo Arslan sei e mezzo Wolas e anche Macchengo sei per Udogi e Beto sei e mezzo Deulofeu così come Samarzic sei per Saxess e Zigelar cinque soppi sei eh Giaialo e leggiamo anche le parole di eh Bruno Pizzul che nella sua rubrica dice adesso non c'è più bisogno di guardarsi alle spalle. Cioffi è l'udinese che verrà so dove voglio eh arrivare ha detto ieri il tecnico che confessa di avere in programma un incontro in spogliatoio per un patto devo parlare perché alla fine sono loro che vanno in campo e devono eh crederci. E allora andiamo a sentire proprio le parole di mister Cioffi al termine della gara. Noi siamo affamati affamati in tutti i sensi e questa mentalità è quella che ci portiamo in settimana e che ci permetterà di decidere insieme qual è il prossimo obiettivo perché come dicevo prima scherzando io le idee sono molto chiare. eh so cosa voglio e so come ottenerlo. I ragazzi devono condividere questo questo aspetto qui perché se no non ha non non ha niente senso ma sono convinto e mi rispondo in anticipo che saranno ancora più affamati. Che gusto vi ha dato anche di fronte a duemila friulani che sono arrivati al penso violare questo campo per la prima volta in A? Bellissimo perché ripeto ciò che ho detto in un paio di conferenze il nostro lavoro alla fine vuol dare soddisfazione a chi ci guarda e vogliamo essere fieri cioè vogliamo renderli fieri di ciò che facciamo dell'atteggiamento che abbiamo e delle volontà che cerchiamo di realizzare. E allora vediamo i duemila corsari bianconeri e ordinano l'arembaggio e tornano col bottino pieno. Venezia raggiunta in tutti i modi dai tifosi treno, auto e pullman e poi la storia di Martina e Marta Friulane infiltrate nella curva di casa. Rimaniamo sulle pagine del messaggero Veneto ma dal calcio passiamo al basket e andiamo a leggere l'ennesima vittoria della pallacanestro Udine. L'Old Wild West vince facile e adesso è a metà dell'opera passeggiata con Orzinuovi primo posto a fine fase regolare ora quattro match dell'orologio per tenerlo. Poi i playoff verità è finita 104 a 47 ieri al Carnera e coach Boniccioli al termine della gara ha detto Cantù risvegliata non dobbiamo sbagliare. Un colpo queste le parole di Boniccioli chiudiamo il messaggero Veneto e per chiudere questa nostra rassegna stampa di oggi come sempre andiamo a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali Corriere dello Sport e Tutto Sport. Eccole qua assieme alla gazzetta il Corriere dello Sport titola aspettando la Juve pari dei rossoneri a Torino 0 a 0 volata a scudetto sempre più incerta. Milan e Napoli in frenata Inter a meno due da Pioli con una partita da giocare. Gli altri risultati impresa viola Spalletti cade in casa due a tre e Allegri torna a sperare a centropagina immobile mondiale che dice basta cattiverie la Lazio passa Genoa 4 a 1 Ciro i tre gol e il caso Italia appunto. Poi nel taglio alto i motori con il Bello e la Bestia questo il titolo del Corriere dello Sport leclerc domina il Gran Premio d'Australia secondo successo in tre gare il Ferrarista ha già 34 punti di vantaggio su Russell Verstappen fuori. Nella MotoGP Bassianini altro trionfo comanda lui con la Ducati. Ancora vediamo tutto sport a centropagina Carlo Magno leclerc fenomenale a Melbourne due vittorie su tre Gran Premio e fuga mondiale Verstappen fuori questa Ferrari è una bestia ha detto il 24 tutti a Imola. E poi grazie Toro e Granata impongono il pari al Milan e consentono all'Inter di avvicinarsi alla vetta. Nel taglio alto io con De Ligt un sogno intervista esclusiva Gatti prima acquisto della Juve per la prossima stagione. Chiudiamo tutto sport e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di oggi giusto il tempo per ricordarvi come sempre gli appuntamenti principali di questo lunedì sul nostro canale con l'informazione che torna in diretta come ogni giorno alle 12 alle 15 pomeriggio calcio TG Live anche alle 16 alle 19 alle 19 alle 19.30 il TG Sport e alle 19.45 il TG News Pordenone alle 20.45 le pillole di fair play alle 21 in prima serata e lunedì e quindi appuntamento è con Udinese Tonight in chiusura di giornata alle 22.30 l'ultimo TG il TG della notte. È davvero tutto vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro ancora una buona giornata. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Nell'avvio della nuova settimana l'anticiclone nord africano sarà dominante sul furile Venezia Giulia ne conseguiranno condizioni meteo pienamente primaverili. Il tempo sarà stabile, ampiamente soleggiato e con un graduale rialzo delle temperature. Diamo uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Una situazione meteo tranquilla, splendida giornata con cieli sereni tersi. Temperature minime e ancora piuttosto bassine per il periodo, valori di poco superiori allo zero. Le temperature massime saranno prossime ai 16-17 gradi. Ora diamo uno sguardo a cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Una situazione meteo analoga, dunque sole protagonista, clima mite e piacevole ma senza eccessi particolari. Tuttavia i valori diurni saranno in graduale rialzo nei prossimi giorni. È tutto per sapere quanto durerà tale fase, restate aggiornati sulla nostra app gratuito sul sito trebimiteo.com.